Il computer o il pc, uno strumento davvero essenziale nella vita di tutti i giorni nelle aziende o in casa. Fino ad ora, nonostante la presenza di smartphone che hanno guadagnato potere, il computer non ha pronunciato la sua ultima parola perché sarà sempre un passo avanti a tutti questi. In termini di utilizzo come l'editing video, foto, software di programmazione o videogiochi, possiamo dire che il pc è finora insostituibile. Il computer desktop è senza dubbio la versione più classica ma per la mobilità vengono utilizzati sempre più laptop o smartphone. Le ultime generazioni sono quindi mini computer, più precisamente mini centrali, che sono sia mobili che leggere. Ciao a tutti, oggi inizieremo mostrandovi i 7 mini computer più economici. Ah, prima di tutto però non dimenticare di lasciare un pollice in alto e di iscriverti al canale. Andiamo! ASEPS AK1 Per iniziare vedremo l'ASEPS AK1, che è un mini PC del marchio ASEPS. Questo piccolo computer è già dotato di un sistema Windows 10. La RAM è da 4GB DDR3, con un tipo di archiviazione SSD con una capacità di 64GB espandibile fino a 2TB. Sul lato del processore è dotato di un Intel Apollo Lake J3455 Quad Core 64bit 2.3GHz. Questo mini AK1 è dotato della scheda grafica Intel HD Graphics 500. È possibile collegare due schermi tramite le due porte HDMI. L'uscita video è in 4K. Questa configurazione offre tale potenza, velocità di esecuzione e stabilità. Dispone di due porte USB 3.0, due USB 2.0, due HDMI e una porta per l'Sd. Un ingresso per l'alimentazione e una porta a microfono e cuffie. Per quanto riguarda la connettività, ha Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 2.4GHz e 5GHz e una porta Ethernet per la connessione cablata tramite cavo RJ45. Ha una ventola per il raffreddamento, tuttavia è silenzioso. Può anche essere installato ovunque e dietro ad uno schermo grazie al sistema VESA. MinisForum N4020. Continuiamo con i mini PC N4020 del marchio MinisForum. Questo piccolo computer è già dotato di un sistema Windows 10 Pro, ma è anche compatibile con un sistema Linux. La RAM è 4GB DDR4 con un tipo di archiviazione EMMC con una capacità di 64GB. Sul lato del processore è dotato di un Intel Celeron N4020 Dual Core 2.8GHz. Goditi il display HD grazie alla sua scheda grafica integrata, sempre del marchio Intel. La Intel UHD Graphics 600 supporta due schermi 4K in HDMI o VGA a una frequenza di 60Hz. Questo set offre velocità di esecuzione e stabilità. Per quanto riguarda le porte, questo ha una porta VGA, una HDMI, una scheda ISD, una porta SSD 42 e 22mm NGFF e tre porte USB 3.0. Quando si tratta di connettività, utilizza le tre tecnologie classiche, Bluetooth 4.2, Wi-Fi di tipo 802.11ac e la connessione cablata tramite porta Ethernet che supporta un cavo RJ45. Questo mini PC è ultraportatile e silenzioso. Può essere facilmente installato ovunque grazie alle sue dimensioni ridotte, non ingombra. Un supporto consente anche l'installazione dietro uno schermo. Va notato che questo modello non include una ventola. Minis Forum N4000. Continuiamo immediatamente con il mini PC N4000 che è ancora del marchio Minis Forum. Per questo modello è sempre preinstallato Windows 10 Professional, la RAM da 4GB DDR4 e lo spazio di archiviazione è di tipo eMMC con una capacità di 64GB. Ma il processore questa volta è un Intel Celeron N4000 Dual Core 2.6GHz e non come nell'N4020 precedente. La scheda grafica Intel UHD Graphics 600 è ancora presente, con la possibilità di produrre immagini e suoni tramite HDMI 2.0 e immagini tramite VGA su due schermi in 4K a 60Hz. Il mini PC offre ancora una risposta ed esecuzione rapide per diversi usi. Ha anche porte come nastro VGA da 2.4GB e 5.8GB, HDMI, porta SD, tre porte USB 3.0 e SSD per espandere la memoria. Per quanto riguarda la connettività ha il Bluetooth 4.2, il Wi-Fi 802.11ac e una porta Ethernet per RJ45. Questo modello non ha una ventola, può essere installata ovunque ed è completamente portatile. Andiamo avanti e ora vediamo il mini PC G-Box di Chewy. Questo mini PC funziona con Windows 10, è compatibile con il sistema Linux e supporta due sistemi con doppio avvio. La RAM è di 4GB DDR3 e il tipo di archiviazione EE MMC 64GB espandibile a 2TB. Il processore è un Intel Atom X7 E3950 Quad Core da 1,6GHz fino a 2GHz. Con queste configurazioni promette un uso regolare e stabile. Per quanto riguarda la scheda grafica, questo G-Box è dotato di un Intel HD Graphics 505. Per quanto riguarda le porte, ha un VGA per l'uscita video che supporta due schermi, una porta per la scheda SD con un massimo di 256GB, una USB da 2.0 e una da 3.0 e una USB di tipo C. Sul lato della connettività ha Bluetooth Wi-Fi e porta Ethernet RJ45. In termini di dimensioni, questo Chewy è 187,6 x 138,3 x 37,3 millimetri. Insieme a tutto questo è anche disponibile un telecomando per facilitare il controllo remoto. B-Link B3 Pro 2. Continuiamo con questo mini PC del marchio B-Link BT3 Pro 2. È compatibile con Windows 10. La RAM è di 4GB con un tipo di archiviazione eMMC 3D con una capacità di 64GB espandibile fino a 128. Sul lato del processore è dotato di un Intel Atom X5 Z8 350 da 2,30 GHz. Goditi il display HD grazie alla sua scheda grafica integrata di Intel, la Intel HD Graphics 400. Le prestazioni sono all'incontro, così come la velocità di esecuzione in varie attività. In termini di porte, questo B-T3 Pro ha una porta VGA e un HDMI che consente l'uscita video su due schermi. Ha anche uno slot per schede SD. Per quanto riguarda la connettività, ha Wi-Fi, Bluetooth 3.0 e una porta Ethernet per la connessione cablata in RJ45. Ora finiremo con le sue dimensioni, che sono di 12 x 12 x 2,4 cm. Come tutti i PC precedenti, può essere posizionato ovunque perché è piccolo e portatile. TANIX TX85 Successivamente vedremo il mini PC del marchio TANIX TX85. Il design è semplicistico ma è ancora abbastanza moderno. Per questo modello è preinstallato un sistema Windows 10 Professional, la RAM è ancora a 4GB in DDRL, lo spazio di archiviazione eMMC con capacità di 64GB. Il suo processore è un Intel Atom Z8350 1.2GHz. In termini di scheda grafica è dotata di una scheda 4K HD che consente la visualizzazione di contenuti su due schermi tramite HDMI o VGA. Questo set di configurazione offre velocità di esecuzione e stabilità per una moltitudine di usi. Ora, vediamo quante porte ha questo modello. Ha una porta HDMI e VGA, una porta a scheda SD fino a 128GB, sul lato della connettività ha Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGNAC sul 2.4GHz e due bande 8GHz e infine una porta Ethernet per la connessione cablata sempre in RJ45. Questo TX85 ha un design senza ventole. È fornito con un supporto di installazione e può essere installato da qualsiasi cosa. Va anche notato che oltre ad essere leggero è senza rumore. Yagala Finalmente abbiamo il mini PC del marco Yagala. Per questo modello è preinstallato Windows 10, la RAM di 4GB e lo spazio di archiviazione di tipo eMMC con una capacità di 64GB, espandibile tramite una porta USB con disco esterno di massimo 2TB. Il suo processore è un Intel Atom Z8350 a 64 bit quad core da 1,68 GHz. L'uscita video tramite porta HDMI ha una risoluzione di 1920x1080p. Per quanto riguarda le porte che ha rispettivamente sono un USB da 3.0, 3 USB 2.0, una USB di tipo C, una porta per scheda SD, una porta HDMI e VGA e un'uscita audio e una porta CC per l'alimentazione. La connettività ha 2,4GHz e 5GHz dual band Wi-Fi, Bluetooth 4.1 e una porta Ethernet RJ45. Finiamo con le dimensioni. Questo Yagala è 12,5 x 12,5 x 3,8 cm. Con queste dimensioni e il peso di 680 grammi è facilmente trasportabile e non ingombra. Ecco, per oggi è tutto. Spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto voglio sapere la tua nei commenti. Fammi sapere qual è il computer per te più comodo e quale deciderai di acquistare. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!